E' con piacere e molta gioia che porgo i miei saluti ai cittadini di Soveria Manelli, al loro sindaco, a Mario Carigiuri e a tutti coloro che hanno aiutato Eritasi Calabria a poter realizzare un sogno, a poter realizzare qualcosa da quale teneva molto. Noi di Eritasi durante le nostre pericolazioni abbiamo cercato di essere anche, siamo in montagna, siamo nati a San Giovanni Fiore, siamo nati in West Virginia, siamo nati in Argentina, siamo nati in Australia e abbiamo tentato di diffonderci nei paesi calabresi dove la parte dei cittadini che ha lasciato la Calabria per poter fare fortuna e lavorare altrove è molto importante. Soveria Manelli ha molti cittadini di prima e seconda generazione, potrei anche dire su tre generazioni, che hanno fatto fortuna in America, che hanno fatto fortuna in Canada, quindi Soveria Manelli nel campo dell'emigrazione ha un ruolo, un posto d'onore. Allora noi Eritasi Calabria, la fondazione Eritasi, la fondazione ha tentato con una struttura metallica, di metalli fusi che il nostro delegato di Eritasi, di Pietra Paola, cioè della fascia sul mare, ha voluto creare per noi, ha creato un ulivo, un ulivo con le sue foglie, con i suoi frutti, ma tutto in una struttura molto bella, molto somigliante ad un ulivo naturale. Anche se siamo in montagna, sappiamo che l'ulivo è simbolo di pace, perché è con l'ulivo che Gesù andava predicando durante la sua vita in Palestina. Quindi abbiamo pensato che il paese che poteva in Calabria rappresentare con orgoglio e con gioia questo simbolo della pace era Soveria Manelli. Quindi ne abbiamo parlato con il sindaco siriano che ci ha accolto, Mario Carigiuri che ci è stato sempre vicino da quando siamo nati, adesso sono vent'anni che esistiamo e abbiamo pensato al largo giovane del vostro corso Garibaldi di mettere questa struttura che i cittadini vedono sempre quando passano e che è il simbolo, per noi il simbolo della pace. Quindi abbiamo questa mattina voluto porre una targa ai piedi dell'albero in modo che i visitatori, i giovani che si siedono la sera, che fumano una sigaretta, parlano tra di loro intorno a questo ulivo, non possono mangiare un ulivo perché non lo possono mangiare, ma somiglia tanto, quindi avranno la voglia di toccarla, avranno la voglia di mettersi una foglia di questo ulivo sul petto e questa è simbolica la cosa, ma è molto significativa. Quindi noi abbiamo messo la targa con questa motivazione, che vi leggo in modo da poter essere soddisfatto di averlo trasmesso grazie a voi, a tutti i cittadini di Soveria e del Reventino, perché il Reventino come tale ha molti emigrati in molte parti del mondo. La targa è così predisposta. A Soveria Mannelli, paese simbolo della Calabria, l'ulivo della pace, perché continui l'indomabile e coraggiosa sfida nel diffondere dalla nostra terra confine naturale del Mediterraneo con l'Europa, la fratellanza, l'unione, la giustizia e la pace nel mondo. Come vuole l'UNESCO. Come è sempre stato d'altronde, attraverso i secoli, il simbolo dello spirito dei padri della nostra terra e dei nostri santi. Quindi la fondazione Eritasi Calabria è con molto piacere che qui oggi, che ringrazia il sindaco prima di tutto, che ringrazia Mario Caligiuri, che ringrazia soprattutto i consiglieri del comune, perché questo paese è anche simbolo di un'amministrazione saggia, di un'amministrazione avvisata, e di qualcosa che si dovrebbe diffondere in tutta la Calabria, dove, disgraziatamente, ancora abbiamo dei periodi tristi da superare e si superano con l'esempio. Sovria Mannelli dà un grande esempio. Grazie a tutti.